Destro! Lorenzo! Il signore! 3 a 0! Siamo una macchina da guerra! Siamo una macchina da guerra! Respinta corta, immobile, conclusione, rete! Decima vittoria consecutiva, secondo 3 a 0 all'Europeo 965 minuti di imbattibilità del nostro portiere Una dimostrazione di forza spaventosa anche in questa seconda gara Rete! Siamo avanti noi! Festa in là! Spirazzo la larga dalla parte opposta, gran palla Terra, chiesa, chiesa in aria, chiesa, chiesa! 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 La chiesa è il centro del villaggio! 1 a 0! Quando hai fatto le cose per bene, ti sei preparato con cura Hai rispettato i tuoi riti, hai fatto tutto con professionalità e serietà Quando sei legato a valori importanti, fratellanza, amicizia, aiuto reciproco Quando pulsi sotto la maglia azzurra e rappresenta una nazione Allora hai una sola certezza Rispetto per tutti, paura di nessuno Debi fidare! È il ranking, non c'è nulla! Chiesa! 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 La chiesa è il centro del villaggio! Questo è l'ultimo rigore Dagli 11 metri Giorginio Dal limite dell'aria, all'arbitro che fischia, a Giorginio che... Tira! Siamo il gioco! Giorginio che perdona! Giorginio che perdona! Andiamo in fine! E vantri parte l'Italia! Sì! Sì! Grazie signore che c'è dato il calcio! Grazie signore che c'è dato il calcio! Che ci fa abbracciare! Che ci fa insegnare! Abbracciami! Abbracciami! Che ci fa vincere! Grazie! Siamo! Siamo! Campioni d'Europa! Siamo! Campioni d'Europa! Campioni d'Europa! Grazie! 23! 54 minuti! E l'Italia! L'Italia è campione d'Europa!